Ben trovati con Mercati che fare. Cosa sarebbe successo alla nostra vita oggi se ieri pomeriggio io, così non parliamo di voi, avessi avuto un'infortunio, una malattia invalidante o addirittura qualcosa di peggio. Valutiamo anche dal punto di vista dinamico e economico quello che inciderebbe sulla nostra vita e su come la nostra vita o quella delle nostre famiglie cambierebbe se ieri fosse successo qualcosa del genere. Sembra un discorso un po' truce ma dal punto di vista economico la gestione dei risparmi va anche in questa direzione di questo. Parleremo questa sera con Paolo Zucca del Sole 24 Ore, grazie per essere con noi Paolo. Buonasera a tutti. A Mercati che fare. Allora cominciamo a comprendere con questo servizio quanto e se gli italiani si stiano preoccupando di quello che è accaduto ieri così non dobbiamo preoccuparci del domani e poi ne parliamo con te. Assicuriamo l'auto perché siamo obbligati, talvolta la casa perché il mutuo lo richiede, sottoscriviamo una polizza se viaggiamo all'estero, ma assicurare noi stessi la nostra capacità reddituale, la nostra salute, la nostra vita, questo no, non rientra nelle nostre abitudini. Per gli imprevisti tanto c'è il denaro che abbiamo messo da parte per il non si sa mai. E così il 52% dei capi famiglia italiani, rivela un'indagine GFK Italia, immobilizza parte dei propri risparmi per far fronte alle emergenze, precludendosi la possibilità di impiegarli in modo più redditizio. Nonostante i cambiamenti sociali ed economici in atto, nonostante l'ormai conclamato progressivo invecchiamento della popolazione, le modifiche strutturali della famiglia e del mercato del lavoro, la polizza assicurativa non rientra nelle scelte di investimento degli italiani. La mano del welfare si ritira, la sanità mostra le sue falle, eppure solo 6 italiani su 100 hanno scelto coperture contro le malattie invalidanti. E il saldo delle assicurazioni vita del 2017 ha registrato un calo del 30,3% rispetto all'anno precedente. Il nostro primo asset finanziario, il capitale umano, la capacità che abbiamo di generare ricchezza, resta decisamente a rischio. Un gioco d'azzardo, il nostro, che spesso si vince, ma che in caso contrario mette davvero a repentaglio i progetti di una vita intera. Il servizio della nostra Paola Rota addirittura chiudeva parlando di gioco d'azzardo, quando non si pianifica correttamente e si scommette sul presente guardando al passato, se fosse successo così non dobbiamo fare gli scongiuri. Paolo Zucca, la tua lunga esperienza al Sole 24 Ore, soprattutto a Plus del Sole 24 Ore, quindi contatto proprio col mondo del risparmio, sei stato anche direttore di Plus, hai coordinato la redazione. Ecco, la tua percezione rispetto a quello che abbiamo sentito è sull'attenzione che abbiamo noi italiani di garantirci il presente e anche il futuro guardando con attenzione a certi aspetti. Guarda, l'evidenza di questi anni di lavoro è stata che c'è una sottovalutazione importante tutto quello che è un problema di salute che può intervenire, una necessità di interventi chirurgici particolarmente pesanti. Tutte quelle cose si fanno dire in questo momento no, ma speriamo di no. Allora, speriamo di no è una logica diciamo di ottimismo che può andare bene, però noi abbiamo sempre consigliato ai nostri lettori invece di osservare la realtà, auspicare il meglio per tutti, però anche di prendersi le responsabilità di capifamiglia, che sia uomo o che sia donna, perché nel momento in cui si va a tutelare il capitale umano, adesso poi lo spieghiamo anche un po' meglio, si va a tutelare non soltanto un soggetto, ma anche una famiglia. Anche perché noi risparmiamo tanto, noi italiani abbiamo, l'abbiamo detto tantissime volte in questa trasmissione sotto forme diverse, sotto aspetti diversi, oltre 4 mila miliardi di risparmi liquidi. Però questi risparmi liquidi teniamo in conto corrente spesso e volentieri proprio ancorati al non si sa mai. Non è che non ci pensiamo, ma magari lo facciamo con le strade, con le strategie sbagliate. Mi sembrerebbe poter dire che c'è in questo momento molta attenzione alla copertura dei rischi anche finanziari, cioè dell'investimento finanziario, sicuramente al rischio che la casa abbia un incendio, ovviamente è obbligatorio il rischio danni, e poi c'è un'attenzione al rischio vita, ma ci sono delle fasi intermedie che non sono esattamente valutate. E qui entriamo nel capitale umano. Se un dirigente, tempo indeterminato, dovesse per ragioni di salute in un'azienda avere dei problemi, intervengono del welfare aziendale, in qualche modo si arriva a una copertura. Se già avviene per un professionista, cosa vuol dire essere assente dal lavoro, di cui magari capo studio, per un anno, per un intervento chirurgico importante? E poi stiamo entrando nella logica del capitale umano che si misura, è l'assenza fino alla fine della propria vita lavorativa. Possono intervenire nel corso degli anni degli elementi che ti rendono impossibile lavorare. È chiaro che va quantificato. E come si quantifica il capitale umano? C'è una formula. Ecco, allora, guarda, proprio perché Paola Rota per noi ha preparato un servizio che ce lo racconta, poi magari ne discutiamo assieme in studio. Cos'è il capitale umano e quanto vale? Senza ricorrere a definizioni più tecniche e complesse, possiamo definirlo l'insieme delle facoltà e delle risorse di cui ciascuno di noi dispone. Conoscenza, istruzione, informazione, capacità tecniche ed esperienze che ci consentono di svolgere un'attività e generare un reddito. Secondo un rapporto Istat del 2014, il capitale umano di ciascun italiano avrebbe un valore medio di circa 342 mila euro. Risultato di un calcolo basato su tipologia di lavoro, prospettive di carriera e aspettative di vita, ma anche su dati più difficili da rilevare come il lavoro svolto in ambito domestico e l'impiego del tempo libero. Si tratta ovviamente di una media. Ogni individuo ha un proprio specifico valore che è possibile calcolare stimando i redditi futuri che sarà in grado di produrre fino al momento della pensione, filtrati attraverso variabili come l'età, il sesso, il livello di istruzione o il contesto sociale. Fattori determinanti per delineare una certezza, il più grande patrimonio di cui disponiamo, al di là dei risparmi accumulati e degli investimenti finanziari intrapresi, risiede proprio in noi stessi. Quando parlavamo di valore potenziale di una persona, qui lo stiamo misurando e lo stiamo misurando nel tempo. Tu parlavi di formula, è abbastanza chiaro il nostro servizio. Assolutamente perfetto, assolutamente perfetto e permette di misurare anche i fini assicurativi perché poi bisogna rivolgersi a un consulente, una compagnia di assicurazione e quindi valutare sulla base di cifre, quindi non soltanto di sensazione, l'opportunità di stipulare delle polizze di diverso tipo, le frasi consigliari dai migliori consulenti per affrontare questa fase, sperando naturalmente che non ci sia bisogno, però ci sono delle polizze, le long term care che sono apposta per chi non è più autosufficiente e quindi ha bisogno di un aiuto in casa. Questo è un problema per il singolo e per la sua famiglia, quindi io credo che un capofamiglia avveduto, uomo o donna che sia, debba fare un tipo di riflessione e poi è anche un investimento di questo tipo. Anche perché l'assicurazione è uno spostamento di rischio, io delego ad altri quello che è un rischio, come quello che stiamo raccontando, che ho tutto sul mio portafoglio personale, se non lasciamo da parte la sfera degli affetti, delle emozioni e tutto quello che può determinare tutto quello che stiamo raccontando, però il rischio economico poi diventa importante. Assolutamente, come sapete il meccanismo assicurativo vale per l'agricoltore con il proprio raccolto, vale per i danni, sposta il rischio in cambio di un premio su una compagnia di assicurazione. Questo elemento di rischiosità della vita personale non è ben valutato dagli italiani, non so se è una ricerca di stellone della fortuna che ci bacerà per tutta la vita o non so, forse c'è bisogno di qualche passaggio in più. Dal punto di vista culturale che passaggio in più ci vorrebbe? C'è il passaggio che bisogna guardare uno scenario che può essere uno scenario non positivo, questo noi italiani diciamo a un'Europa del Sud non piace tantissimo guardare il caso peggiore che ti può capitare, ma proprio essere protetti dal caso peggiore è un elemento che dà beneficio alla vita, nel caso mi accadesse una cosa non auspicabile sono comunque in grado di gestirla, questo è un passaggio culturale. Guardare al passato, come ho detto io all'inizio della trasmissione, misurare il presente in funzione di una cosa che non è accaduta, ma che se fosse accaduta noi possiamo misurare, può aiutare gli italiani a comprendere meglio gli impatti soprattutto economici? Sì, tu hai fatto un esempio iniziando la trasmissione che è molto corretto, se ieri mi fosse successo questo, e quindi l'hai fatto a su di te, quindi per certi aspetti... Poi è ieri, ieri è passato, siamo bene per cui... Ieri è passato però, immaginare ovviamente uno scenario, cosa sarebbe successo, è un elemento che ti aiuta molto nella vita e secondo me la migliora molto nella vita, quindi guardare cosa è successo in passato, è successo alle persone che si conoscono nel bene e nel male, è un elemento di valutazione, è un passaggio culturale come stiamo dicendo, però ragionare per cosa hai visto e cosa sarebbe potuto accadere in quell'occasione, ti aiuta a prendere poi una decisione, è una decisione che ha un suo costo, ma attenzione stiamo valutando sempre costi e opportunità, le opportunità si devono avere una copertura per anni in caso di non autosufficienza e anche in caso di interventi chirurgici molto gravi, che sono del polizio... O di invalidità da infortunio, da malattia... Anche interventi chirurgici molto gravi che possono dare prima di tutto un costo dell'intervento e poi anche un costo successivo, non indifferente, che è prima di tutto personale, psicologico eccetera, ma poi anche economico. C'è un altro aspetto da considerare, che in un processo di pianificazione patrimoniale di cui si parla tanto in questo periodo, soprattutto quando i tassi di interesse sono spariti, quindi dare un nome ai soldi, organizzare la propria vita finanziaria in maniera tale che si possa essere coerenti finanziariamente con i propri progetti di vita, questo libera anche risorse finanziarie, perché se come dicevo prima Paolo abbiamo tanti soldi da parte per il non si sa mai, è come se avessimo bloccato lo stesso quelle risorse per quei problemi che non amiamo valutare, ma che comunque li teniamo lì lo stesso e non li usiamo per cose più efficaci. Perfettamente, in un eccesso di liquidità che c'è nei portafogli degli italiani ci sta la sottovalutazione di questo elemento assicurativo e previdenziale, ci stanno anche altri aspetti, ma quel tipo di investimento è funzionale a un ritorno che è un ritorno anche di tranquillità, di serenità, perché non metterci questi aspetti anche psicologici? Se io so che il mio futuro comunque vada, è coperto, è ben coperto, io sono anche più felice. Lo facciamo soltanto se è obbligatorio, come diceva il servizio introduttivo, sull'auto? Non assicureremo neanche l'auto, qualcuno lo fa, però il concetto dell'obbligatorietà ci porta a farlo, nel caso dell'auto, nel caso del mutuo casa. Potresti dirlo, ma concordo con te, un po' triste dirlo. Dovrebbe cambiare il paradigma anche in questa direzione, magari chi ci sta ascoltando dice adesso ci obbligate anche a fare le coperture sulle... Ma a chi ci ascolta in questo momento auguriamo soltanto una riflessione. L'obbligo, come dire, è da un paese immaturo, no? Quando sei obbligato a fare una cosa per legge. Si spera che il ragionamento, le commissioni come queste, possono facilitarlo. Come dovrebbe affrontare una famiglia un approccio corretto alla pianificazione patrimoniale e quindi anche alla copertura di tutti i progetti? Perché è come se comprassimo un frigorifero senza la garanzia che quel frigorifero funzioni sempre. Le complessità sono varie, ad esempio allargando un po' il termine di capitale umano, ma ci stiamo perfettamente, se si hanno dei figli, cominciare a dare loro della forza contrattuale per il loro futuro lavoro e contribuire al loro capitale umano in futuro. Da questo punto di vista l'investimento su conoscenza delle lingue, permanenza all'estero, esperienze di lavoro all'estero, sono tutti trasferimenti di nostro patrimonio ai figli. Quindi, ripeto, chi ha la gestione del patrimonio dovrebbe fare questa riflessione sul capitale umano di chi sta arrivando, perché in genere si ragiona sul capitale umano di chi sta lavorando, ma noi dobbiamo lavorare anche... Quindi c'è una proiezione futura? In che termini, Claudio? In che termini è appunto che investendo la propria liquidità sui figli, una buona pianificazione, si può avere nei figli già un insieme di conoscenze, i colleghi con cui ha studiato all'università all'estero, che ha conosciuto i primi approcci di lavoro, la conoscenza delle lingue, questo è patrimonio di capitale umano, è fatto anche di conoscenze, sapere che si hanno dei contatti, una buona agenda di conoscenze che aiuterà il futuro. Investendo sui figli si fa il bene loro, cresce già il piccolo capitale umano in attesa che poi prendano dimestichezza completa con il mondo del lavoro. Io credo che sia un insieme di fattori, avendo tanta liquidità a disposizione, ragionare non soltanto per risparmio investito e performance e rendimento, ma allargandola a un concetto di gestione della famiglia come se fosse un'impresa, ma c'è tanto di affettivo... Con un business plan corretto fondamentalmente. Beh, sai, mettersi lì proprio a calcolare così, però qualcuno effettivamente vorrebbe vedere quali percentuali di investimento c'è nell'immobiliare, che percentuali di investimento c'è, non so, un investimento finanziario, cosa c'è nelle polizze, cosa c'è nel capitale umano. E quindi, in dipendenza anche della famiglia, del tipo di lavoro, si può fare anche, diciamo, con la calcolatrice se questo... Strutturare correttamente questa pianificazione di cui parli tu permette anche di avere risorse economiche che oggi pensiamo di non avere. Io immagino i 1.400 miliardi che in questo momento sono sui conti correnti, che vengono sistematicamente non valorizzati, ma depauperati anche dai costi dei conti, dall'inflazione e così via. Magari quelle coperture che oggi ci sembrano un costo, gestendo bene i nostri capitali, i nostri risparmi, addirittura verrebbero quasi gratis. Sì, io ti propongo anche un altro modo di legge, che proprio nel Prenditelo hai già dato tu, un costo, tra l'altro anche abbastanza misurabile, contenibile, eccetera, in cambio di serenità per il futuro. Sembrano due contesti diversi, dei numeri e dell'affetto e diciamo così e delle emotività, ma in verità no, perché se uno sa di essere coperto lavora anche meglio, si muove anche meglio, è più tranquillo diciamo nella vita. È chiaro che è tutto un processo che va fatto in casa, ma anche con un consulente, perché francamente impostare, voglio dire, anche valutare gli aspetti diciamo della famiglia. Qui bisogna essere informati per poi avere un ottimo rapporto con il consulente, parlarsi da pari a pari e quindi avere le scelte migliori. Sembra un costo, ma in verità è un risparmio. Anche perché è un processo sartoriale quello che ci stai descrivendo tu, no? Ogni persona ha le sue necessità, i suoi progetti. Diceva il servizio, il capitale umano medio degli italiani è intorno ai 340 mila euro, poi c'è chi vale tanto di più, chi vale la media è un... La media, come sai, è sempre truce fra un... E il pollo di Trilussa. Assolutamente è un pollo di Trilussa, però vuol dire che c'è dentro un capitale di lavoro e di esperienza. Ripeto, facciamo un esempio di un commercialista, un lavoratore autonomo rispetto a un lavoratore dipendente. È chiaro che le variabili per gli anni successivi in caso di completa capacità di lavoro e invece in caso di difficoltà di lavoro applicato a ragione di salute cambia completamente, diametralmente la vita. Poi bisogna capire se c'è famiglia, se ci sono i figli, che tipo di responsabilità abbiamo anche verso terzi perché non è solo verso di noi, no Paolo? Perfetto, io credo che questo sia un ragionamento base, anche per chi ci ascolta, vale per il singolo che sto scrivendo la polizia, ma in realtà vale per il nucleo familiare, vale per il futuro. Abbiamo cominciato parlando quasi scaramanticamente al passato, ma sono condizioni, problemi e situazioni che dobbiamo affrontare con serenità? Ah, ma assolutamente. Allora, prima di tutto lo vedete tutti, c'è un allungamento dei tempi di lavoro, anche involontariamente, il lavoratore deve lavorare di più per arrivare alla pensione. La demografia sta cambiando tutte le nostre... La demografia sta cambiando, a me spiace naturalmente di coloro che ci ascolto, i mari sono in cerca di occupazione, però anche per coloro che sono al lavoro è un problema stare al lavoro 5-6 anni in più rispetto al previsto. In quegli anni, in genere, le condizioni di salute possono avere qualche problema in più. Qualche acciacchietto in più andando avanti in realtà c'è. Qualche acciacchietto in più. E quindi, diciamo, l'allungamento del periodo di lavoro, della vita media, in qualche modo obbliga anche a fare questa riflessione. E poi c'è il welfare statale che non funziona più o che non funziona così come si era previsto in passato, visto anche i cambi demografici di cui stai parlando. Assolutamente, il secondo pilastro, quindi la capacità di avere degli interventi di altro tipo, degli investimenti di altro tipo da tenere presente. Quindi ci sono dei casi di welfare aziendale, bisogna ricordarlo. Quindi alcune polizze di cui abbiamo parlato in questo caso possono essere sottoscritte attraverso la propria azienda, se ha un po' spalle grosse. Questo è un vantaggio da cogliere, però l'arretramento dello Stato sui servizi essenziali a fronte di una difficoltà demografica nei fatti. Bene, l'unico suggerimento che diamo in scadenza di tempo di trasmissione è pensateci, perché una vita serena val bene un'attenzione oggi. Grazie a Paolo Zucca per averci accompagnato, grazie a voi per averci ascoltato. Mercati che fare, torna come al solito sabato prossimo. Arrivederci, buona serata. Grazie a tutti.